Ma che cazzo gli dico a questi, che non sono senza biglietto? No, non la so guidare minimamente, Michelle, tieniti forte. Ma già è tanto che sei riuscita a mettere... Guarda, puttana! Aia! Hai fatto male? Preso! Aia! Minchia, l'hai data forte? Minchia, mi sono andato una c... Mi sono aperto. Lo vedendo? No, non c'è a posto. Aia! 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 Porca puttana! Non dammi un bacio. Aia! Minchia, che trambata che ho dato. Madonna di... Ma neanche siamo partiti, già una trambata incredibile. Com'è esce da qui? Porca puttana! E ti devo trovare la motella? Vabbè, abbiamo già la prima... Abbiamo già il primo freebooting fatto, comunque. Ma porca puttana che trambata... Che trambata! Una craniata pazzesca! Che c'è la Fantozzi? Maronna! Andiamo a dormire. È tutto il minuto zero! Allora, la dedico e facciamo mente locale. Allora, noi possiamo... Allora, innanzitutto dobbiamo fare una tappa intermedia. Prima di Ercole. Andiamo a prendere un computer. Di un amico di Erarco. Che gliel'ha data questo qua, quando era venuto qua e non gliel'ha restituito da riparare. Non è dammer. Come sgasa. Vai piano, su stop. Ecco l'ho visto. No, ma non abbiamo fretta, noi. Sto già suonando, vedi? Ti devo mettere la cintura. Sarà vicino, non me la sono messa apposta. Ma non sgasare, non sgasare! Vai pieno, pieno! Come? Una situazione strana. Come è un soggetto strano? No, no, ma è un bravo raghezzo. Il camper è lì, calma! Che cosa? Sono un attimo scossa. Mi sono uomo. Ti è piaciuto questa prima tappa? Posso dire sinceramente no. Vabbè, però abbiamo l'obiettivo, l'abbiamo preso. Sì. Il camper da qualche parte, qua dove vado? Oh merda! Che è caduto? Direttamente qua a destra. Faccio una chiesa. Porco! Immacolata di Dio. Mi puoi portare per favore il costume da scolaretta e il copri bianco trasparente? Mi servono, devo fare dei contenuti, me li hanno chiesti. Contenuti? Nel cassetto delle robe insurze. Dove vado qua? Si dice qua. Milano. Vabbè, qua si è un goffro di Milano. Ho mandato la carica? Ah no, il caricabatterie non c'è. No, solo il computer c'è, Ela. No! Ah, un caricatore si rimedio. Dai, vaffanello. No! No, io non ci torno. No! No, Ela, non possiamo più trattarlo. Ma dov'è? Ah, ho sbagliato? Non mi dai il coso? Ah, scusa, scusa. Ma GJ, porca puttera, mi hai fatto andare il coso sbagliato, vedi? Sono andato nella corsia sbagliata. Sono sbagliato. Devi premere help. Scusi, ho sbagliato. Scusi. Mi dica. Scusi, ho sbagliato la corsia, mi sa. Forse sarà chiù. Eh, non hai il telefono? No. Puoi aiutare. Dov'è diretto? Eh, dobbiamo andare a Milano. Come? A Milano, Milano. Allora, quando arrivo a Milano, dica che hai avuto il concetto a transito da Arluno. Arluno, va bene. Grazie. Grazie. Salve. Che figo. E mi ha distretto, GJ, valedetto! Vedi? Arluno. Ricordatemi Arluno, che devo dire, poi al casello. Arluno. Che non c'ho il biglietto, non c'ho. Che figo. Allora, colpa di GJ, perché mi stava parlando, dovevo entrare nel casello. Arluno. Ah, sì. Arluno, Arluno numero uno. Arluno. Non chiametemi, non chiametemi che sono con un telefono solo. No, io pensavo che fosse successo qualcosa che non andava. Ho detto, va, va, chiamato. Ma poi quando arriviamo lì al casello che devo fare? E ne ho mandato l'autorizzazione, era l'uno. Dicidente, due chilometri. Colpa di GJ, ma ha fatto sbagliare l'uscita, non c'ho il biglietto, non c'ho. Stiamo senza biglietto. Sapevo io. Porca. Ma perché succedono tutte a me, dico io? Perché un viaggio era un po' finalissimo? C'è dell'aria. Avete aperto il finestrino? Ma ma cazzo, io in bagno l'ho lasciato aperto. Oh cazzo. Michelle, puoi chiedere il finestrino in bagno? Posso chiudere? Il finestrino in bagno. Non è che è volato lì il finestrino. Ma il casello. Mi ha dato l'autorizzazione Arl'1. Porca. DJ, ma che cazzo gli dico a questi, ma, che non sono senza biglietto. Mi fanno pagare da... dalla Svizzera. Mi fanno pagare. Ma qua come cazzo faccio qua? Arl'1. DJ, maledetto! Inquadrami, vediamo se... Cosa riusciamo a fare? Inquadrami sulla difficoltà. Perché non capiscono da casa la difficoltà. Senza biglietto, sono col banco, ma... Adesso fuori mi so, quindi suonano tutti. C'è l'omino, almeno. No, devi fare aiuto. Porca puttana. Salve. No, non c'è nessuno, devi andare più avanti. Pronto! Lì, in basso, c'è il pulsante aiuto. Dov'è? In basso. Ah, là, là in alto. Introdurre prima il biglietto e poi la Svizzera. La chiamata è stata ricevuta. Prego restare in attesa. Pronto! Si prega di non scendere dal veicolo. Eh no! Pronto! Devo andare un po' in retromarcia. C'è una macchina dietro? No. Pronto? Non mi sento. Pronto! Ma da dov'è che parla? Ma forse viene il tizio, non so. Maledetto, Gigi, maledetto! Lo sapevo io! Sì, al biglietto, mi dici la donarina? Ah sì, mi hanno autorizzato a dar l'uno. Bene, un attimo solo. Grazie. Maledetto, Gigi, maledetto! Ah, ecco, vado. Arca putta! Vada. Introdurre il denaro... Mi ha messo. Porca puttana! È caduto il banco, matto! Gigi, maledetto! Porca puttana! Non bestemmi, ma... No! Ah! Non bestemmi, matto! È un rettivo! E se era caduto il banco, matto! Era caduto il banco, matto! Mi hanno pure sbroccato. Gigi, maledetto! Però ho recuperato un euro e venti. Una un euro e dieci. Qualcuno te l'ha data? Da per te, va. Un euro in più. Settecento e quarantanove da recuperare. Ah no, perché ho pagato col banco, matto. Ah no, è una tangenziale. Ma pure cazzieto! Gigi, maledetto! Vabbè, ma me l'ha caduto il banco, matto. Ma non è che me l'ha sputato fuori. Non è che me l'ha caduta le mani. Me l'ha sputato proprio via. Madonna, che fatica sto vieto. Sono già stremetto. Manco abbiamo fatto una teppa. Non lo so!